I farmaci. Hai scritto questo libro adesso, no? Psicopillole, ok, che tocca un tema che non so, potremmo parlarne e dovremmo parlarne tanto, no? Però iniziamo con una cosa semplice, se vogliamo. Come li usi, li usi tra virgolette ovviamente perché sei una psicoterapeuta, psicologa, nel tuo lavoro? Come li integri? Ecco, forse la parola migliore, come li integri? Allora, ci sono direi due possibilità che come terapeuta strategica mi ritrovo di fronte. La più frequente è quella di persone che arrivano avendo già una terapia farmacologica. Tu sai che nel mondo dei disturbi ansiosi, ad esempio, è estremamente facile che i pazienti abbiano addirittura dal medico di base già la tipica prescrizione antidepressivo più ansiolitico. Quindi di solito arrivano, nella maggior parte dei casi, soprattutto se ne soffrono da qualche anno, già con una terapia farmacologica. Quindi chiaramente la prima cosa che si fa è dichiarare che i farmaci non si toccano, fino a quando la terapia non avrà avuto successo. Quindi io faccio la mia terapia con le sedute necessarie, che sai che sono piuttosto poche quando parliamo di disturbi ansiosi. Quando abbiamo risolto che significa che la persona, avendo ancora la sua terapia farmacologica, ha rotto tutti gli evitamenti, ha recuperato la sua vita, non ha più attacchi ansiosi, è in grado di far tutto, a quel punto, o con il suo medico di riferimento, o lo psichiatra di riferimento, o se vogliono, posso indicare io, qualche d'uno, chiediamo al medico competente di scalare gradatamente la terapia. Anche perché questi sono disturbi in cui non è necessario ottenerla. Quindi diciamo che possono avere ogni tanto tamponato, a volte sono dati in maniera assolutamente superflua purtroppo, però una volta che il problema è risolto vengono fatti togliere. Questo direi che è la cosa in assoluto più frequente che mi capita. Quando parliamo di tutta l'area fobico-ossessiva, parliamo di disturbi alimentari, in cui i propri farmaci, ormai riprovato, non avere nemmeno alcun tipo di indicazione reale. Cosa differente è quando arrivano persone con altri tipi di disturbi. Quindi possono arrivare persone che hanno, ad esempio, diagnosticato una depressione severa, o un disturbo delirante o psicotico, in cui se la diagnosi è stata ben fatta, e qui ci sarebbe da aprire una parentesi, il farmaco è un presidio importante. Quindi in quel caso ovviamente si prosegue con la terapia e poi si valuterà congiuntamente con lo psichiatra se sarà possibile anche scalare farmaci o se in alcuni casi si ritiene più predente mantenere, ad esempio per gli antipsicotici, un po' di farmaco ancora per del tempo. Però diciamo che qui si scopre in divenire. Devo dirti però che questi sono veramente una minoranza, anche nei diagnosticati depressi. Purtroppo noi abbiamo una stragrande maggioranza di persone che hanno questa diagnosi di depressione maggiore per un disturbo depressivo che però può essere risolto solo con la psicoterapia. Quindi che non appartiene a quella minoranza che invece richiede una terapia di fuorporto farmacologico. Poi in realtà c'è un terzo caso. E questo è rarissimo, però ogni tanto mi è capitato quando arriva una persona che ha una fase di crisi acuta, l'abbiamo definita nel libro con il mio collega lo psichiatra Alberto Caputo. Cioè una persona che magari ha vissuto un episodio ansioso così forte o per una situazione di vita, un evento traumatico che in quel momento ci si rende conto che ha proprio bisogno di un piccolo aiuto farmacologico per un breve tempo, giusto per aiutarlo a contenere fisiologicamente l'ansia, perché magari sono persone che non riescono più a dormire da una settimana, due settimane. Allora siccome non esiste alcuna ideologia su questo contro i farmaci, in questo caso, mi è capitato raramente, ma mi è capitato, chiedo proprio al mio collega psichiatra di intervenire per un brevissimo periodo, dando un po' di sollievo fisiologico all'ansia per permettere alla persona anche di riposare, di riprendere un po' di risorse, poi dopo questo breve periodo, ma che possono essere uno o due settimane per darti l'idea, quindi non è una terapia, è proprio come una sorta di tachipirina per chi ha la febbre, le persone si rasserenano poi mi permettono poi di intervenire. Quindi ci tengo a citare anche questo perché, ti ripeto, non è così frequente, ma può essere un buon modo per avere una sinergia con la figura dello psichiatra. Ovviamente deve essere una persona che condivide con te una metodologia, se vuoi, un po' inusuale per quello che è la corrente psichiatrica più diffusa. È facile trovare colleghi psichiatri che, come posso dire, vedono farmaco e psicofarmacologia e psicoterapia come alleati e addirittura sanno quando è meglio togliere il farmaco piuttosto che lasciarlo andare? Allora, senti, io sono sicuramente in una posizione privilegiata perché il mio referente è proprio il mio coautore del libro, quindi è sicuramente una persona molto disponibile in questo. So che colleghi che lavorano in altre città hanno anche loro trovato referenti. Dirti che è proprio la cosa più frequente che puoi trovare, purtroppo, nella esperienza che ho, parlando un po' con i pazienti e quando loro mi raccontano quello che il loro psichiatra dice loro, purtroppo ancora molti psichiatri dichiarano che la psicoterapia è totalmente inutile. E te lo sto dicendo con un eufumismo, perché di solito le parole che arrivano sono molto più squalificanti. Ed è un peccato perché questo nasconde, purtroppo, una profonda ignoranza sui dati della ricerca scientifico, medico-scientifica, sull'efficacia comparata psicofarmacologia-psicoterapia. Quindi se queste persone si informassero su quello che la ricerca medica dice, quindi non quello che diciamo noi, come una sorta di visione di parte, saprebbero, ad esempio, che per tutta l'area fobico-ossessiva tutte le ricerche dimostrano che il presidio terapeutico principale è la psicoterapia. Alcune ricerche hanno addirittura indicato che l'aggiungere alla psicoterapia i farmaci nel caso dei disturbi ansiosi può peggiorare l'esito. Quindi anche questa idea che comunque un po' aiutano non è detto. In alcuni casi possono peggiorare. Sì, ho riscontrato la stessa cosa anche io ho trovato, psichiatri con cui mi sono trovato molto bene a collaborare, altri meno. C'è da dire poi anche l'altra cosa, infatti reputo il vostro libro molto utile anche per gli psicologi perché d'altro lato ci sono alcuni colleghi psicologi che, al contrario, non hanno la percezione quando il farmaco è necessario. Grazie a tutti.